Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di Pokémon Lavandonia Nello scorso episodio siamo giunti a Fuxiapoli e abbiamo esplorato la zona Safari ottenendo la MN03 Surf che servirà per proseguire da questa parte ragazzi Allora, prima di proseguire, oltre a invitarvi come al solito a lasciare un like e rispondere alla domanda del giorno nei commenti vi mostro la squadra, ho ottenuto un Klawitzer pescando al quale ho insegnato appunto Surf poi per il resto abbiamo Mega Gengar, Ghost 1, Crocodile, Ghost 2 e Ray Unknown che alla fine ho deciso di mettere in squadra Allora ragazzi, direi di mettere davanti... non lo so, proviamo sto Ray Unknown visto che non mi parli di averlo allenato e niente, si dovrà usare Surf? Attenzione ragazzi perché Surf si potrà usare praticamente solo qua perché nelle altre zone sarà impossibile utilizzarlo, non mi chiedete il motivo Klawitzer usa Surf e andiamo Allora, attiverrei subito un repellente credo di aver messo troppettina la parola di prima ma dettagli Ok, questa qua, percorso 17 ma sinceramente questo percorso 17 tecnicamente dovrebbe essere esatto è la pista ciclabile in sostanza Ok, c'è un po' di nebbia e sulla terra c'è la musichetta della torre di Lavandonia Esatto Oh Gesù Ok Eh, ma tutta sta terra qua messa muzzo non mi convince per nulla, sapete? Ok, penso di essere arrivato penso che questa striscia qua sia... no invece Oddio Effetto repellente è esaurito e noi non ci facciamo problemi a riattivare un altro Oh Gesù, vediamo un po' chi si trova raga Cazzo, spirito a livello 15 Ok, aspetta Idem Power quanto ti fa? Stordiraggio Aspettate, proviamo a catturarlo raga Dovrei avere un bel po' di Ultra Ball, 18 Uh, preso Che culo Uno spirito ribelle Ok, si va giustamente nel PC Vediamo un po' ancora chi abbiamo perché Sembra, sembrano esserci poco interessanti qua Ah, eh, però giustamente è un repellente, mi farete notare Eh, facciamolo esaurire un attimo velocemente raga E poi vediamo chi diavolo si trova in quest'erba Ok, sempre Spiritomb Sempre Spiritomb, quindi fuggiamo No, vorrei vedere se ci sono altri Pokémon un po' più creepy Tipo, eh, tipo la roba Nello scorso episodio ho appena visto il Rayon 1 Ho pensato, geni cazzo, sono dei geni Intanto qua mi è caduto il... tutti i fili della vita Ok, mi sembra che ci sia solo Spiritomb qua ragazzi Quindi possiamo proseguire Anche perché immagino che si arrivi ad Azzurropoli E dopo Azzurropoli a rigor di logica dovrebbe esserci la Vandonia Che è la nostra meta in sostanza Ok Un Pokémon sta dormendo Questo Pokémon qua è... Eh, vabbè, sì, a livello 22 Poi... Poi a che livello li devo allenare i Pokémon? Oddio, tra l'altro è scomparsa pure la... La Dogana Cioè, Dogana non si può sentire però... Wachog livello 18! Ma che livello sono questi? Madonna! Allora, vediamo se questa qua mi dà volo Leggo denotamente che salverai Canto Non posso fare molto per aiutarti ma posso darti questa Grazie mille Questa è volo infatti E questo qua è un Firouf colorato Perfetto Allora, proseguiamo senza incontrare Pokémon Eccoci qua ad Azzurropoli E sinceramente lì c'è un po' Allora, calma Curiamoci prima i Pokémon Oddio, non c'è nessuno Perfetto Che bello Andiamo a ritirare un attimo il nostro Spiritum Ragazzi, perché qua i livelli mi sembrano molto alti Direi di depositare, raga Fatemi vedere un attimo le mosse Direi di depositare, raga, Crocodile Che mi ha deluso Nello scorso episodio Ah sì, ovviamente ragazzi Sì, non lo uso Perché è un Pokémon illegale Come vedete anche dallo Sprite Cioè, in tutti i sensi illegale Non so se mi sono spiegato Vediamo però se si può ottenere l'ivi Che si poteva ottenere qua sopra Ah, tra l'altro Questa cosa qua non c'era prima Infatti Cioè, oddio Questa cosa qua è dove c'erano quelli Della Game Freak In sostanza Che si erano messi dentro al gioco Però non c'era il collegamento Ok, calma Devo andare piano qua Ok, lì c'è Una vecchietta strana Vediamo cosa ha da dirci Ok, non devo spendere i soldi in bevande E mi da il tè per andare Giustamente ragazzi Il tè servirà per andare a Zafferanopoli Vediamo se Ok, abbiamo ottenuto Ma è dove sono Dove sono arrivato Cos'è successo Oddio Si teletrasporti a Muzzo Ma raga ma Cioè Seriamente 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 Arceus E vabbè Se non mi metto in squadra Arceus Sono un coglione Cioè Figa l'emblema Ok Intanto qua fuori Passa l'aviazione Tedesca Non lo so cosa sta passando Allora Vediamo un attimo Graffio Attacco furia Attacco rapido Potevate impegnarvi Per dargli un musset Accettabile Vabbè Insomma Questo coso qua Mi incuriosisce No Sei inutile Oltre a essere Rosa Sei pure inutile Oddio Ok Questo casino è stato modificato Ne sono sicuro Sono scappata da bianca villa Senso i guacci di Hawk Ah mi sfidi Perfetto Duskull livello 16 Vai ray unknown Hidden power Disable Grazie Ti ringrazio Davvero Stupire che è sgomento Abbiamo capito Nightshade fa malissimo Oh Finalmente Era ora Perfetto Adesso andiamo di Hidden power Finchè non schiatta male Dai 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 Perfetto Minchia raga Questo qua Dorme un sacco Ha preso i sonniferi Ha preso È arrivato qualcuno Gli ha fatto sleep powder Grande ray unknown Sali pure al 14 Ottimo così Zubat Zubat livello 18 Addormentiamo pure lui E così è proprio facile Ray unknown Raga non è malaccio Come pokemon A parte avere solo Intro forza Però Cioè Onesto Reggi Bravissimo Vediamo se lo riesce a buttare giù Mamma mia Grandissimo Livello 15 per lui Un tempo Una bella ragazza Anche tu sei un suo esperimento What Ehi c'è un pulsante sotto Crivi preve il pulsante Oddio Ok Questo è il rifugio di coso Di coso cosa Del team rocket Di Giovanni Insomma Insomma Allora Allora no Stavo pensando Che Ecco Ha levato pure sta roba qua Ha levato pure le porte Da ste case Proviamo a entrare Nella palestra La raga E non c'è nessuno Ottimo Usciamo dalla palestra A sto punto Se non c'è nessuno Immagino di dover andare Nel rifugio Qua Ok Praticamente È totalmente spopolata Sta città Per ora raga Non lo uso Arceus Penso di utilizzarlo Solo in situazioni Di emergenza Perché ora come ora O minch Si era buggato Come se non ci fossero Domani Rifugio delle medium O santo cielo Full di fuga Allora dai Mi sa che dobbiamo affrontarla Spiritomb Cazzo Cosa ho spultato Ho spultato un bambino Allora mandiamo Ghost 2 Ghost 2 Ghost 2 È inutile Totalmente È un pokemon Totalmente inutile Allora rimandiamo Rayon known A sto punto Stordiraggio Madonna Questo coso qua Sta diventando fastidiosissimo Eden power Vabbè vedete che comunque Eden power Nel suo piccolo Un po' di male lo fa Hypnosi Grandissimo Rayon known Ce l'ho qualche Full restore No volevo vedere Se avevo una Qualcos'altro Non lo so Vabbè utilizziamo Full restore Comunque raga E adesso No ho misclickato Come se non ci fosse Un futuro Allora andiamo Di Eden power Finchè non si sveglia Sleep Eh minchia Guardate che merda Sto coso È proprio infame Ma dentro Dentro la vita È infame Eh niente Mi confonde Non posso farci molto Wake up Bravissimo Rayon known Così ti voglio Bravo Faista un sport Che forse è meglio Oh Gesù Che fastidio Mi ha rotto No non posso Attaccarlo con Arceus Minchia 100 ps Oddio È fortissimo Vabbè Mi sa che Oddio che schifo Ma non ha mostre D'attacco Sto coso Oddio che fastidio Ragazzi Sti pokemon Dormi Ehm Mandiamo Chloitzer Facciamo surf E ovviamente Io cosa faccio Mi sclicco Surf Perfetto Ragazzi Chloitzer è abbastanza Forte Da questo punto di vista E qua Grazie che Minchia Umbreon Livello 17 Sto cominciando a temere Io Pursuit Dai Chloitzer Dai Chloitzer Ce la puoi fare Io credo in te Io credo nel cuore di Chloitzer Questo qua però mi fa tail whip Adesso se mi attacca No Chloitzer ce la fa Sarà addirittura a livello Al 14 Quasi al 15 Mamma mia Chloitzer eroe Ehm Allora Famo una cosa Una cosa molto veloce Andiamo a No Andiamo a curarci Poi vado a prendermi delle cure totali Raga Perché i revitalizzanti ce li ho Le pozioni ce le ho Mi mancano appunto Ste cure totali Sperando che Al centro commerciale Ok perfetto C'è la gente È già una buona cosa Non c'è la gente Non ci credo Eh neanch'io Ci credo Cavolo Dove sono tutti Hello Welcome to The Pokemon Center Dai Non potete Non può non esserci nessuno Hi Final finish Pokemon Ok va bene Non mi interessa Questo qua ci dà contatore Io in realtà voglio Dove sono le cure totali Mannaggia voi Ti prego Dimmi che siete voi No Non mi interessi Non ci credo Stai scherzando Cioè Hanno avuto il coraggio Di levarlo Maledetti Eh raga Non posso prendere le cose Per curarmi Speriamo di non incontrare Altri spirito A un basso punto Perché altrimenti Sono nella merda Io Eh vabbè Rifioniamoci dentro Sto coso Rifugio del medium Sperando che No ok Si bugga di nuovo Però si sbugga Velocemente Dai almeno quello Ah ma vedo che le porte Sono tutte aperte E che mancano delle scale Tra l'altro Eh proviamo ad andare giù di qua Raga Abbiamo davanti Mega gang Raga ti prego Fa che non abbia spirito Ok cubon Ottimo È già meglio Psico impulso Fa malissimo Cioè in realtà no Non gli ha fatto troppo Speravo di più Eh tanto finché Fai lir Ma non puoi attaccarmi C'è un problema Tra l'altro noto Che solo alcune mosse Le han tradotte in italiano Le altre le han lasciate così Ok Non puoi farmi niente Brutto scemo Fai schifo A casa Livello 12 per mega gang Se vai pa Minchia livello 21 Ma è sciottato malissimo Ehm Proviamo ad andare Clawitzer Facciamo un po' di surf A muzzo Minchia se fa male Però a parte che Questo qua era un critical Quindi Capirai Ehm Allora proviamo ad addormentarlo No Ray Non facciamo boiate Ok bravo Addormentalo Hidden power Ok iniziamo ad andare Hidden power Minchia è vero che c'ha muta Sto infame Sto infame c'ha muta Eh mi sa che mi manda a casa Tutta la squadra Mi sa che mi costringerà Ad utilizzare Coso No forse ce la capiamo Con questo ghost Raga sapete Se ci va bene A parte che lui ha muta Quindi adesso dagli tempo Ecco appunto Dai e dai e dai e dai Regi No eh E spiritom Non può fare niente Quindi ok ho capito Mandiamo arceus Arceus ragazzi Lo utilizzerò Veramente solo Quando sarà necessario Perché Lo trovo un po' troppo OP E sinceramente Il fatto che l'abbiamo messo così Non mi è piaciuto Cioè allora Più che altro Sono sballati i livelli Perché noi siamo Di livello basso Gli avversari sono di livello altissimo Ci danno un pokemon Che per battere gli avversari È esagerato Vabbè Ok Ci accontentiamo Cioè ci accontentiamo Nel senso Va bene così Cosa ci devo fare io Oddio Quante siete Allora Qua abbiamo una iper pozione Scritto staccato Giustamente Non lo so Mettiamo Teniamo davanti Mega gang Raga affrontiamo un po' di medium Però dopo un po' vi assicuro Che smetto di affrontarle Se no altrimenti Se no altrimenti Sto episodio dura 26 millenni Ehm Mettiamo Klowitzer Mi fa leccata E giustamente Direi mi paralizza Grazie mille Dai non puoi non attaccare Brutto Schifoso E quando attacchi Fallisci Sei serio Disable Eh vabbè Allora andiamo di bolla A parte che adesso schiatta Dategli tempo Che schiatta Ehm Eppure io mi sclicco Calma fai surf Ok giù Livello 15 per Klowitzer Acqua impulso Ok Acqua impulso Praticamente sembra che abbiano aggiunto Queste mosse qua Di ogni tipo raga Cosa? Ok mi sa che ha un'abilità strana Per la quale riesce a pararsi il culo No scusami Ah Water absorb Ah e quindi qua abbiamo capito Che la nostra intro forza Che culo La nostra intro forza È di tipo acqua Davvero Che culo Ma proprio Telecinesi Graffio Quanto ti fa E sto coso qua Minchia Ok ho capito raga Arceus Oh Devo cercare di sbrigarmi Perché altrimenti Non ce la facciamo più Oh Meno male che abbiamo furia Che fa un male Dalla madonna E via No Ho detto via Ok Gengar livello 13 Ah C'hai pure altri pokemon Qua avrei potuto ritirarlo Arceus effettivamente Falli più di tre colpi Con furia Brutto schifoso Ole Devastata pure questa Curiamoci Cloitzer Ehm Anche gli altri Anche Cosoli Arceus Ole E proseguiamo Quella lì raga Me la balzo Se no altrimenti Finisce male Ok Sono riuscito a saltare Non posso permetterti Di sfidarmi Maledetta schifosa Psico impulso Gli facciamo un male assurdo No se sto qua inizia di minimizzato Raga è un casino Ve lo dico Minimizza Minimizza Attenzione Minimizza Incredibile Dai Gengar che ce la fai Dai Gengar che ce la fai Dai Gengar che ce la fai T'ho detto che ce la fai Mi stai tradendo così Sì No invece ce l'hai fatta davvero Non ci speravo più Ok Parte il fatto che adesso mi schiatta Dategli tempo che muore Ecco qua Bravissimo Hai capito tutto della vita Rimandiamo Chloitz e raga Che mi sembra uno dei nostri Poco migliori In questo momento Vai di surf E tra l'altro raga Lo sprite da dietro di Chloitzer È davvero 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 Fatto bene Concedetemelo Ma è veramente figo Ehm Non ho Non ho nulla Allora Revitalizziamo Mega Gengar A sto punto raga Chloitzer Però che ha avvelenato Io non ho Cosi per Non ho rimedi È un po' un casino Allora Qua immagino di poter andare Ah Sembra che ci sia bisogno Di una chiave Vero 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 E adesso mi schiatta Però Ah ok Aspettate Perfetto Sì Ehm Ok Evitata Con molta nonchalance Oh mi pare Che la chiave Fosse qua Nei paraggi Caramella rara Perfetto A parte che c'è il market Che le vende a 2 euro Quindi Vai tra Però Però Oh una caramella rara Non si butta mai via Raga Ehm Qui Perfetto Forse questa riesco pure Evitarla Ole Erba nera Oddio Questa qua È la weed Ah no Sono degli occhiali Non capisco Perché si chiamano Erba nera Però va bene Ok Allora Etermax Perfetto Adesso raga Eh infatti Mi schiatta Chloitzer E vabbè Succede Addio È stato bello Mi odierai come allenatore Chi è che si trova su questo piano Non vorrei aver letto male E allora non mi sbilancio Recoup Direi unknown Se fai schifo Quando fai così Ok Ehm Megagengar Vai tu E non ho più neanche i pp di questa Ok Ok L'unica solution è Arceus Arceus con attacco furia Via Ole Scusate Lo starnuto Amuzzo E poi Ai Porygon 2 Addirittura Porygon 2 Che tra l'altro No si c'era in questa generazione Cosa dico E Porygon Z Che hanno introdotto in O Gesù In quarta Si Ole Arceus livello 26 In paralancia fiamme E vabbè Poi mi dite che Che questo pokemon Non è OP Otteniamo la MT Che si chiama Rubare Perfetto Han deciso di cambiare Queste cose qua Sinceramente non sono molto d'accordo Però ho scelte loro Ah ma io tra l'altro Un revitalizzante Revitalizzante Nuovo Nuovo strumento Raga Allora Super pozione Perfetto E adesso raga Capiamo la chiave Dell'ascensore Immagino di poter andare Ad affrontare Il boss di turno Allora Tu Io ti voglio Evitare Perfetto Otteniamo One pietra lunare Evviva Little English Devo solo capire E ricordarmi Soprattutto come si faceva Ok si faceva così Perfetto Saliamo su No ok Basta che Entrae nell'ascensore Piano 4 Chi cazzo sei? Ciao Mi chiamo Erika Sono a Coppolestra di Azzurropoli E gli altri coppolestri Siamo arrivati di guardia Nella città Gli poco mi difenderanno Mi dispiace No No Eh Eh Oddio Sei drogata E poi Altro Non metterli troppo scarsi I pokemon Che mi offendo Oddio Ma tu sei pazza Eh si Ciao Vinco domani Beh che io Ho Arceus Quindi dovrei solo far silenzio E E su quello Ti do anche ragione Ma cazzo Così mi sfidi In un rifugio Senza Preavviso Senza niente Vabbè Beccati sto lanciafiamme Ammissato Arceus 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 Sarai anche il dio dei pokemon Ma io sono un umano Ma io sono un umano E sono più figo di te Quindi vedi di eseguire i miei ordini E poi ha capture giustamente Dopo due leggendari Capture Beh legit no Lanciafiamme Mandiamo giù anche lui Vabbè raga Arceus è decisamente OP Arceus Arceus è decisamente OP Ed è veramente Una cosa Assurda Che me l'abbiano Rifilato così Però raga Anche questo Xerneas Non scherza Sarà perché Ha un'ottima difesa speciale Eh no Ma anche Difesa fisica Non scherza Fate conto che Le mosse di normale Per Arceus Sono stab O stab Come si Come si voglia Pronunciare Arceus Non fallire No Iperpozione Ma adesso Mi viene un dubbio Ma ci sarà anche Un altro boss Oltre a quello Ah ma è perché Avevo usato schermo luce Che era così forte Eh capito io allora Ho capito io allora Dai che ce la facciamo No minchia Pure Fully No fai schifo Meno male che Ho fatto Sono stato intelligente E ho rifatto ipnosi Cioè in realtà No mi hai scliccato Ma Dettagli Arceus Veramente ti spacco La faccia Come fai a fallire Ma che cavolo Di precisione C'hai Com'è possibile Che fallisce Lanciafiamme Che ha 90.000 Di precisione E sto coso qua Non ha più pipì Per le mosse Vai tra Eh eh Cosa posso fare Secondo voi Non ti caricare Non ti caricare Ti prego No perché Missa Perché missi Non missare Eh betta idiota Oh Ne hai un altro Oh Ti ho battuto Con questa Mitaglia potrei usare La mossa forza Anche fuori dalla lotta Sono sicuro che Riuscirei ad aiutare Questa regione Grazie E otteniamo anche Giga assorbimento Qua otteniamo Calcio invece Oddio Basta Vi prego Questo episodio qua Raga Sarà un po' Più lungo Del solito Perché dai Almeno Dobbiamo finire Almeno sto rifugio Allora Ho immagino di dovervi affrontare Quindi facciamolo Velocemente Sandile Sandile contro Arceus Direi che c'è poca storia Obiettivamente Sabbia tomba Sei abbastanza infamello Però caro mio Coccodrillo Vabbè C'hanno i pokemon Di Gesù Giustamente Io c'ho il pokemon Di Dio Loro ci avranno I pokemon Di Gesù Cosa ci devo fare Io E tra l'altro Ho finito i pipì Rabbia Che sarebbe ira Ole Levatevi Milotic Attacco rapido Acqua sport Cos'è? Doccia scudo Perfetto Da un Milotic Ma aspettavo di tu Bello Bello Ok Stavo rifacendo Il gioco Ed è successo Questo Devo rifarmi Di nuovo Tutto E vabbè Raga Recupererò E vi farò vedere Nel prossimo episodio La battaglia Contro il cane Che abbaia Ma che diavolo Ragazzi Ci becchiamo In un prossimo video Troppo casino E vi farò vedere No